eccomi qua dunque nel mio ufficio piuttosto incasinato il mio laboratorio è meglio forse più in ordine rispetto al mio ufficio e sono qua in questo video che è particolare perché su aperto un post interessante sul forum che dice quale significato date alla parola bonsai chiaramente non significato letterario così come potremmo trovarlo su un vocabolario ma cosa vuol dire per voi bonsai allora io ho dato un'introduzione ho visto tanti tanti concetti espressi da determinate persone e ho scritto un post un post che nonostante l'abbia accantonato e sostituito con uno ridotto è ancora un po pesantuccio da leggere e allora ho pensato faccio il video e così ve lo vedete col video magari e magari per chi non mi conosce mi vede anche in faccia se non ci siamo mai visti allora iniziamo col dire vi leggo testualmente cosa ho scritto e ancora mandano online in questo momento alla fine della lettura vado ad ampliare un attimo il significato che ha per me la parola bonsai che mi sono trattenuto per non condizionare i vostri pareri all'inizio e nei vostri interventi come prima cosa devo chiarire che pur essendo una una passione che è diventata poi la mia attività principale non rappresenta il mio motivo di vita o quantomeno non primario da sempre ho preferito ammettere le esigenze della famiglia e molto spesso anche degli amici e francamente avendo avuto di recente ormai tre anni una bimba e in età piuttosto avanzata perché ho comunque 45 anni me la sto stragodendo e sottraendo molto volentieri risorse alla mia attività professionale cioè faccio delle rinunce molto volentieri per la mia bimba non vado più all'estero magari giro meno nei club evito di star fuori la notte perché le piace dormire come però è una cosa che mi piace tantissimo che sognavo da tempo e quindi era una rinuncia che faccio volentieri dunque detto questo volevo dire che considero bonsai per me una opportunità qualcosa io ricevo dal bonsai ma un po tutti noi riceviamo dal bonsai riceviamo tutto appagamento soddisfazione no dall'inizio un qualcosa che riassumendo era un passatempo legato alla natura curiosare sperimentare stimola scoprire l'ambiente intorno a me io abito qua vicino a 300 metri ho i boschi e fin da bambino i miei genitori mi portavano nei boschi a così correre e divertirmi coi miei amici appena abbiamo potuto prendevamo andavamo in bicicletta a giocare nei boschi ci passavano i giorni forse anche per quello la natura e gli amici per me sono così importanti e la famiglia sono tre tre cose che caratterizzavano la mia gioventù anzi no che gioventù infanzia dunque stimola scoprire un ambiente intorno a me una volta entrato nel mondo del professionismo io sono entrato con bonsai club.it l'ho creato nel 2001 così un'idea ecco un concetto forse che non ho inserito qua anche la condivisione il condividere un qualcosa che io sapevo cercato di metterlo di creare una comunità dall'inizio questo forum dove tutti mettevano un proprio sapere quindi anche un concetto di community di condivisione molto importante nel 2001 poi ho aperto un e commerce legato al bonsai ciò che riguardava tutta la logistica del bonsai e poi ho iniziato a fare delle mie lavorazioni fino a diventare un professionista inizierà da ricorsi no e quindi qua scrive o poi una volta entrato nel mondo del professionismo vinti i titoli di talento europa italiano nel 2007 talento europeo nel 2008 è diventato istruttore sempre nel 2008 si è configurato una situazione dove la necessità di approfondire ha dato vita alla voglia smisurata di conoscere questa rassura di conoscenza perché è un hobby è bellissimo ci sono degli hobby che arrivi a un certo punto conosci tecnicamente tante cose però qui è una cosa infinita non lo so io facevo anche altri hobby ma un hobby così che mi dà l'opportunità di approfondire tante cose tanti settori tanti argomenti non solo questo ho trovato finora se ci pensate qua scrivo il bonsai è tecnica osservazione hobby ed estetica oggigiorno ho detto prima anche aggregazione a questo punto perché anzi su questo stesso form visto che stiamo scrivendo è aggregazione perché la tecnica è perché la tecnica ce n'è tanta dobbiamo plasmare plasmare con le nostre mannine dare una forma è quello che ti dà pagamento no è che appaga l'artista dare un creare un qualcosa secondo suo volere forse anche un po così un'idea malata di dominio sulla materia l'osservazione perché perché nel bonsai ciò che riguarda una disciplina estetica un'arte estetica visiva un'arte visiva è importantissimo osservazione io passo i giorni a guardare anche i lavori dei miei colleghi quelli che mi piacciono quelli che mi piacciono meno ma non col fare critico perché sono curioso di vedere determinate soluzioni che allora hanno trovato io in questi anni insegnando ai miei allievi ho trovato magari anche quello che mi tirava fuori la tecnica più strana perché l'aveva visto fare da suo zio nel bosco e su allora dirmi io ad esempio ho imparato la tecnica come aumentare lo scorrimento della linfa delle piante da mio papà quando non fruttificavano prendeva frustate le piante con un ramoscello perché praticamente distaccava il cambio si creava del nuovo materiale cicatrizzale andava a creare una una maggior spessore del del maggiore scorrimento della linfa e l'anno seguente la pianta fruttificava di bestia sa cosa che viene da 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 se vogliamo anche da dai nostri noni così però è data anche da da questa condivisione comunque dicevamo allora la tecnica l'osservazione un hobby chiaramente è un passatempo passiamo del tempo come in tanti lo passano in un'altra maniera noi abbiamo questo passati l'estetica l'estetica ebbe ragazzi appassionarsi a un qualcosa che ci appaga visivamente caspita è una nobile arte nobile arte e riuscire a riprodurre qualche cosa noi di bello questo che ci appaga riuscire a riprodurre qualcosa noi di bello poi c'è qualcuno che anche trova pagamento nel produrre un qualcosa di meno bello però lui è contento ed è appagato l'importante questo ed è appagato che la pianta sia grossa sia piccola un modo è appagato altro concetto che vado esprimere che il bonsai ci dà anche una importante opportunità nel conoscere tanti fondamenti scientifici di più scienze no mettiamoci ad esempio l'agronomia la chimica la biologia la biochimica la fisica perché dobbiamo sapere quanto piegare un rame un ramo perché non si piega ho detto rame come mettere il rame come mettere l'aspira affinché lavori in spinta e non in trazione affinché non funga da molla quella è fisica che ne so abbiamo detto la biochimica gli ormoni come funziona come la pianta trasforma i sali in glucosio e come si crea l'atp l'energia della pianta tantissime cose è una se parliamo di scienze il bonsai è una cosa che veramente ci devasta e ci dà una serie informazioni che se noi ci mettessimo adesso sui libri potremmo andare a studiare avere dieci lauree per dire so tutto sul bonsai forse ancora non basta quindi agronomia biologia chimica biochimica fisica matematica anche matematica perché se pensiamo noi mettiamo una pianta ne invasiamo fa tot giorni una sciocchezza al fa bisogno in freddo si parla di ore di esposizione al freddo per cui c'è anche la matematica va sommarsi va beh e poi il saper pianificare perché questo è un concetto che ho già spiegato l'altro giorno noi lavoriamo con la testa nel futuro cioè noi dobbiamo prevedere quando io faccio un intervento anche solamente una potatura io risultato non lo vedo nel momento a potatura lo vedo dopo un mese ma io in quel momento già lo immagino per cui pianifico perché io adesso sto già pensando in primavera inoltrata come sarà lo sviluppo delle mie piante sto pensando a quale rinvasare quale non rinvasare come andranno lavorate che tipo di rinvaso fare che tipo interventi fare che selezioni delle gemme fare che potature fare perché perché sto già pensando a come poi le piante mi si presenteranno a maggio magari ok quindi noi siamo sempre avanti poi mettiamoci anche noi vediamo il domani viviamo il domani mettiamoci anche bonsai cosa significa bonsai pianta vaso no pianta invaso per cui estrema conoscenza i vasi bonsai e metà pianta metà vaso è come arte quindi il vaso estremamente importante dobbiamo conoscere cos'è un vaso poi c'è chi appassionato che magari un po meno ed è capibile però dobbiamo sapere che una pianta molto vecchia una pianta che caratterizzata a 300 anni magari di vita noi dovremmo avere un vaso con la stessa età affinché sia credibile affinché sia valorizzata affinché rappresenti un concetto per cui i vasi antichi i produttori dei vasi il materiale con cui sono prodotti i vasi il tipo di lavorazione di cottura di colore la forma perché in base all'estetica si abbiano anche un determinato vaso e qua anche qua è un altro mondo però lasciamo la parte arriviamoci fino a un certo punto accontentiamoci delle forme dei materiali quant'altro se no andiamo fuori di testa come esponiamo le piante l'accaido l'arte dell'esposizione ci sono varie varie tipologie di esposizione no shin gyo so a seconda formale in form semi formale informali secondo il tipo di piante ed è bello il saper mettere in evidenza determinati elementi evidenza data magari dagli spazi da certe case caratteristiche ed è bello pensiamo ad esempio dietro a questo non l'ho scritto lo scroll che vediamo dietro che può rappresentare un ambiente una stagione le stagioni al bonsai sono 72 accontentiamoci magari delle 24 ogni 15 giorni comunque 72 stagioni perché ci sono 72 diverse possibilità configurazione dell'ambiente oppure anche sono semplicemente delle scritte guardate quanto sono belle le scritte giapponesi è una un'arte perché comunque è un ideogramma è un disegno ogni scritta è un disegno è abbastanza a volte anche io ricordo un mio amico che si era trasferito a taiwan aveva comprato una stampa bellissima da mettere in casa sua e poi era semplicemente una targhetta che ho scritto estintori ma era scritta talmente bene che era bellissima se le comprate se le messe in casa l'ha saputo dopo che c'era scritto estintore però ecco quindi abbiamo parlato di tante cose dell'importanza degli spazi ecco ad esempio sul bonsai purtroppo sono i nostri bonsai sono soggetti a malattie allora studiamo quali sono le caratteristiche di un albero cosa deve avere un albero scopriamo che la pompa naturale più potente in natura assorbe al terreno ed evapora trasporta tantissima acqua e trasforma in energia si trasforma in energia se ci pensate noi pensiamo ai pannelli solari adesso la forma dell'albero è fatta per ottimizzare l'energia l'energia del sole quindi pensate anche come funzionano il fungo e i batteri pensate all'origine culturale bonsai dal pengin al bonsai in giappone all'interpretazione europea qua parlo ancora della scrittura io ve l'ho già anticipata vediamo arriva poi la primavera e tutto riparte da capo perché perché ripartiamo con rinvasi con la potatura ed è come qua ho scritto la magia della notte di natale per i bambini che ogni anno si ripete e per noi ogni anno si ripete questa magia solo che noi abbiamo una fortuna che a noi si ripete la partenza della gemma la nuova vegetazione il cambio di colori in autunno siamo molto fortunati a seguire quest'arte avere la padronanza di quest'arte avere l'opportunità di approfondire quest'arte perché è un'arte che dà a noi l'opportunità di conoscere e l'opportunità di approfondire noi regaliamo quest'arte quanto quest'arte regala a noi noi regaliamo rispetto a quest'arte lo dobbiamo fare dobbiamo parlare con rispetto quest'arte qua scrivo per concludere insomma l'opportunità di approfondire innumerevoli concetti nuovi interessanti parlando di nipponico oggigiorno anche di moda già perché anche di moda mille concetti che cari in caratterizzano alla fine che cosa relax e tempo di qualità perché questo non deve mai mancare che tutte queste cose che noi abbiamo l'opportunità di approfondire di imparare rappresentano il nostro tempo di qualità ed è bellissimo io ho 45 anni penso che sul bonsai andrò avanti fino a che riuscirò a leggere o che morte non sopravenga e imparerò sempre cose nuove io mi aiuto